Oggi noi con questo premio prima di tutto premiamo il merito, premiamo la coerenza, premiamo l'impegno, lo facciamo premiando un giovane talentuoso e facendo riferimento ai valori che Fabrizia portava con sé e la storia di Fabrizia, di una ragazza che ha sempre investito nel proprio percorso di studi. E quanto ha detto questa mattina il vice premier Luigi Di Maio intervenendo alla cerimonia di consegna di una borsa di studio intitolata Fabrizia Di Lorenzo, con tale concorso si vuole creare nelle giovani leve che entrano nel mondo del lavoro sempre più globalizzato il ricordo di un'eccellenza italiana che negli studi prima, nel lavoro poi, è rappresentato l'immagine migliore del nostro paese. Il concorso è organizzato dal Ministero degli Affari della Cooperazione Internazionale Esteri, da lì c'è l'Agenzia per la Promozione all'Estero e Internazionalizzazione delle imprese italiane, Union Cameri e Confindustria. Il programma si pone una serie di obiettivi che le parti attuano e precisamente offrono alle imprese, attraverso la formazione di giovani stranieri in Italia, in settori operativi di loro interesse. Il saluto di apertura è stato del Ministro Luigi Di Maio. Sono intervenuti il Ministro Enzo Milanesi, il Presidente dell'Ice Giuseppe Mazzarella. Durante la cerimonia c'è stata la consegna della borsa di studio intitolata a Fabrizia Di Lorenzo, la giovane di Sulmona, vittima dell'attentato di Berlino di ormai due anni fa, allo studente vincitore dell'edizione 2018 del programma Invest Your Talent in Italy. Inoltre anche Giovanna Frattaroli, madre di Fabrizia Di Lorenzo, Presidente del Comitato Insieme per Fabrizia Ollus, ha tenuto durante la cerimonia un breve intervento. Un premio che per me e la mia famiglia riveste un'importanza grandissima. Stare qui oggi evoca in me sensazioni e ricordi indelebili. Ricordo come fosse oggi quel momento. Era l'anno 2007 in cui Fabrizia, mentre studiava all'Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Mediazione Linguistica, mi comunicò di essere stata ammessa al tirocinio presso l'Ufficio ICE di Vienna. Tra i presenti è anche la senatrice vendastellata Gabriella Di Girola.